dai fuori risposto uno di noi il papa uno di noi uno di noi il papa uno di noi il papa uno di noi c'è un sacco una bomba c'è una roba ma c'è il virus le fare a roba oh tutti insieme a cantare dai fa fino è un sacco sono un sacco un sacco oh 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 il s perda giulgita anche se il papa non lo sa, noi saremo sempre qua, i prechi e cardinali ci domandano tutti perché, me ne frego rispondendo che il papà è tutto per me.